Salve, sono Danny Rand. Sono stato via molto tempo. Andiamo, non puoi stare qui. Io sono Danny Rand. Che fate? Chiamate Harold! Via! Benvenuti alla Rand Enterprises. A dieci anni ero in aereo con i miei genitori. Mi sono salvato soltanto io. Danny Rand, morto e risorto. Perché è tornato dopo tutto questo tempo? Come diavolo ha imparato le arti marziali? Formazione? Con Loon. Mio padre mi ha trasmesso amore e rispetto incondizionati per questa compagnia. La Rand è questo per me. Casa. È sempre stata la mia compagnia. In questa città non c'è posto per Danny Rand. Danny, ma che ti è capitato? Perché sei qui? Dei brutti ceffi si sono infiltrati. Dei criminali. Li conosco bene. So che cosa fanno. È un compito adatto a una persona con dei poteri speciali. Mi sono allenato tutta la vita per questo. Sono l'unico che può sconfingerli. È ora. Io vengo con te. Tu non vieni. Ti aiuto io. Ci sarà un cambiamento, Danny. Posso aiutarti a diventare chi sei destinato a essere. Io sono l'Iron Fist. E che vuol dire?